un attimo schiallonesi avanti c'è rata pignata e allora abbiamo svoltato stavolta ragazzi un'andata che vi cagate le mutande nella patria del reggae in sardegna nel gerrei villassalto andata caldissima si parte le tre e mezzo del mattino e si inizia intorno a luna però uno lo trova il tema ti ripassi le canzoni fai le cose stavo postando le vostre canzoni prima ma la gente gli sta ascoltando i brani mica Gifresci in Tivago, Torrenti Sagallella, Laga di Dazzacco, i chi affiacciano a tutti calde 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 questa sarà ricordata guarda per anni per anni e ci sono soldi stavolta mica come sta trotta Castiadas che arrivano qui cioè per arrivare arrivano però parecci cagando ma noi le cose le facciamo per i soldi e cuore ci vuole le cose si fanno perché ci credi come dicono gli inglesi è questione di vibra power paura e le cose fanno perché devono andare e arrivano anche i soldi dopo e mo i bandesi indi sentiamo per telefono con calma ragazzi i soldi non sono tutti ciao 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 grazie 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 a tutti 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 Grazie a tutti